Oggi è una giornata importante perché due nuove strutture vengono a fare parte del patrimonio di Calizzano, l'ambulanza, la sede. La Croce Azzurra è un pilastro del paese perché come ho già detto prima siamo molto lontani dagli ospedali, perciò un pronto intervento efficace penso che a volte si può salvare anche una vita. Soprattutto questa struttura che nasce da un progetto del 2002 e si è sviluppata quindi in tre anni, arrivando alla conclusione del fine 2005, oggi la nuova struttura che noi abbiamo inaugurato si manifesta come il completamento logico di un processo di recuperazione, ristrutturazione e ricomposizione architettonica di un'area degradata. Ci auguriamo che sia quindi una struttura nuova su quel processo di sviluppo sotto il profilo economico, sociale e sotto il profilo culturale. Lei è una delle centinaia di persone che hanno donato il loro contributo manuale gratuitamente per costruire questa struttura. è una cosa nata dal cuore. Certo, indubbiamente. Io era una cosa che dovevo fare per l'interesse del paese, di tutti, perché tutti abbiamo bisogno prima o dopo. Questa struttura può ospitare manifestazioni a carattere ludico, a carattere sociale, a carattere fioristico, quindi possiamo andare dalla mostra dei fiori anche al concerto sinfonico o alla mostra fotografica o alla serata danzante.